Non appena ricevuto questo prestigioso incarico mi sento in dovere di fare i ringraziamenti a chi mi ha preceduto, ovvero a Dezio San Giovanni Germini e Marco Grumetti che tanto hanno fatto per FIAIP Lombardia. Il mio e il nostro impegno della nuova squadra sarà quello di fare del nostro meglio per parificare e eventualmente anche migliorare i loro risultati. Sarà un'impresa ma la volontà e l'impegno sarà tantissimo. Insieme, unitamente al nuovo Consiglio regionale, insieme alla nuova Vice Presidente regionale Maria Vittoria Ravanelli e al nostro nuovo storico segretario Luciano Trivari, cercheremo di dare atto ad una serie di iniziative anche per il 2022 ormai imminente al fine di essere assolutamente utili all'intera categoria ma soprattutto ai nostri associati lombardi.